Ciao, il Salone Finazzi, stilisti di bellezza su misura, prosegue incessantemente con grande attenzione tutte le azioni necessarie a garantire e tutelare la vostra e nostra salute. In coerenza con l'amore, che dedichiamo alla vostra immagine, alla cura e alla bellezza dei vostri capelli, in ugual misura ci dedichiamo a preservare la vostra salute. Qui non sottovalutiamo il problema Covid, conosciamo l'importanza di tutte le azioni necessarie per darvi l'opportunità di vivere l'esperienza nel nostro Salone con la massima serenità. Io e il mio staff ci prenderemo cura di voi, senza mai stancarci di ripetere tutti quei gesti, utilizzando tutti i dispositivi messi a disposizione al fine di poter lavorare nel modo più coscienzioso possibile. Io e il mio staff ci prenderemo cura di voi, senza mai stancarci di ripetere il nostro Salone con il nostro Salone con il nostro Salone con il nostro Salone con il nostro Salone.